Salve ragazzi, oggi parliamo di frazioni, in particolare parliamo della somma di frazioni. Vediamo un primo esempio molto semplice, vogliamo calcolare quanto è la parte rossa più la parte azzurra di questa barretta, cioè vogliamo calcolare quanto è 2 settimi più 3 settimi. L'operazione in questo caso è molto semplice perché 2 settimi e 3 settimi sono frazioni con lo stesso denominatore, pertanto il risultato è una frazione che ha per denominatore il 7 e per numeratore semplicemente la somma dei numeratori, e cioè 5 settimi. Abbiamo quindi scoperto che 5 settimi, cioè la parte in giallo, è la somma della parte in rosso più la parte in azzurro. Bene, passiamo ad un altro esempio, vado ad una festa, ci sono varie pizze, mangio delle fette un po' di qua e un po' di là. Bene, quanto mangio di queste pizze? La prima pizza è stata divisa in 6 fette e io ne mangio 3, 1, 2 e 3, quindi 1, 2 e 3. Nella seconda pizza io mangio, la pizza è stata divisa in 4 parti e mangio una parte, una fetta da un quarto quindi. La terza pizza viene divisa in 8 fette e ne mangio 3, 1, 2 e 3. Ma conclusione, ma io quanta pizza ho mangiato? Vediamo con precisione. Nel primo caso ho mangiato 3 fette su 6, nel secondo caso ho mangiato una fetta su 4 e nel terzo caso 3 fette su 8. Beh, la prima frazione balza all'occhio che si può semplificare, cioè io posso dividere numeratore e denominatore per lo stesso numero, che in questo caso è 3, e ottenere la frazione di un mezzo. Infatti, se voi guardate, le tre fette di questa pizza corrispondono praticamente a mezza pizza, quindi un mezzo. Bene, che cosa devo fare allora? Devo fare semplicemente una somma fra un mezzo più un quarto più tre ottavi. Ma prima di procedere, ripassiamo il minimo comune denominatore, la regola per eseguire il minimo comune denominatore, che non è altro che un minimo comune multiplo. Allora, una volta scomposti in fattori i denominatori, il minimo comune multiplo è il prodotto dei fattori comuni e non comuni con il massimo esponente. Attenzione, ricordiamoci, massimo esponente, ovviamente presi una sola volta. Nel mio caso, quindi, un mezzo più un quarto più tre ottavi è uguale a... Intanto scompongo il 2, ovviamente il numero primo rimane 2, il 4 è 2 alla seconda, l'8 è 2 alla terza. Quindi il minimo comune denominatore sarà 8, perché è il fattore comune con il massimo esponente. Poi devo fare 8 diviso 2, 4 per 1, 4, più 8 diviso 4, 2 per 1, 2, più 8 diviso 8, 1 per 3, 3. Conclusione, il risultato è 9 ottavi. Ma questo risultato, 9 ottavi, a cosa corrisponde in realtà? Ma io, quanta pizza ho mangiato? 9 ottavi è... si può scrivere anche in questo modo, come 8 ottavi più 1 ottavo. Ma 8 ottavi a cosa corrisponde? Corrisponde a 1 più 1 ottavo. Conclusione, 1 è la mia pizza intera e 1 ottavo è una fetta da... da una pizza divisa per 8. Bene ragazzi, lasciamo da parte le pizze e risolviamo assieme questa piccola espressione in cui compaiono somme e differenze tra frazioni. La prima cosa da fare è scomporre i denominatori. Quindi 4 è 2 per 2, cioè 2 alla seconda. Il 10 è 2 per 5. Il 6 è 2 per 3. Il 12 è 4 per 3, ma 4 è 2 alla seconda, 2 alla seconda per 3. Minimo comune denominatore, cioè minimo comune multiplo. Fattore comune è il 2, massimo esponente 2, quindi è 2 alla seconda. Poi prendo anche il 5 e prendo anche il 3. Conclusione, il minimo comune multiplo è uguale a 2 alla seconda per 5 per 3, cioè 60. A questo punto si fa un'unica linea di frazione e al denominatore si scrive 60. E cosa facciamo adesso? Ripassiamo la formula, la regola. Dobbiamo dividere il valore trovato, il 60, il minimo comune denominatore, per ciascun denominatore e moltiplicare il risultato per il corrispondente numeratore. Cioè il 60 devo dividerlo per 4 e moltiplicarlo per il 3 e questo per ciascuna frazione. Quindi 60 diviso 4 è 15, per cui al numeratore scrivo 3 per 15, più 60 diviso 10 è 6, no scusate meno, e quindi scrivo 7 per 6, più 60 diviso 6 è 10, 5 per 10, meno 60 diviso 12 è 5, 5 per 5 è uguale. A questo punto risolvo i prodotti che sono al numeratore, per cui mi viene 45 meno 42 più 50 meno 25, sempre fratto tutto 60, uguale. Risolvo le somme e le sottrazioni che sono al numeratore, 45 meno 43 fa 3, 3 più 50 è 53, 53 meno 25 è 28. Il risultato di questa somma e differenza di frazioni è 28 sessantesimi. A questa frazione si può semplificare. Divido il numeratore e denominatore per 2 e mi viene 4 trentesimi. Posso ancora dividere per 2 e mi viene 7 quindicesimi. Quindi il risultato della piccola espressione è 7 quindicesimi. Bene, questo è tutto. Ragazzi, mi raccomando. Ragazzi, mi raccomando. Ragazzi, mi raccomando. Quattro.